Andrea Capobianco, ospite della presentazione della Magnolia, realtà nuova in Molise, torna la Serie A2 per tutta la pallacanestro locale è sicuramente un bene? Ma certamente è un'ottima cosa, nel senso che giocare a certi livelli è uno spot importante ed è qualcosa che può arricchire sotto tutti i punti di vista giocatrici, tifosi, pubblico, società, allenatori e tutti quanti noi. Quindi certamente veramente devo fare complimenti per l'organizzazione ed è certamente un passo importantissimo secondo me, quindi complimenti e un grande in bocca al lupo. Da Modisano, dando uno sguardo a quello che è il panorama del pallacanestro locale, c'è sicuramente da essere contenti? Certamente oggi abbiamo questa realtà importante nel femminile, che vede anche un settore giovanile e maschile molto importante, abbiamo importanti centri come Venafra e Serena con la Serie B, abbiamo la Serie C a Termoli, quindi direi che certamente si sta cercando di lavorare nel modo migliore. Adesso dobbiamo impegnarci molto con i settori giovanili, dobbiamo iniziare a tirar fuori tanti giocatori e giocatrici, lavorando duramente in palestra, perché penso che le qualità ci siano, penso che il cuore per fare certe cose ci sia e quindi adesso dobbiamo solo cercare di programmare nel modo migliore e penso che il Molise possa ottenere ancora tanti bei successi a livello nazionale. In estate è stato qui con la nazionale Under 18, è stato un evento importante che ha acceso i riflettori sulla nostra regione, partendo da questo dove si potrà arrivare? Sì, hai detto giustamente, accesso ai riflettori importanti, penso che l'organizzazione della cestistica e del curso è stata di primissimo livello e lo dico non perché sono molto sano, ma giro l'Italia, vedo, guardo e ho visto tanto calore da parte della gente, quindi certamente devo dire che c'è stata un'organizzazione di altissimo livello. Questa organizzazione è continuata anche con Megni, con Clinique, quindi c'è stato qualcosa di importante in regioni, di importantissime regioni di livello altissimo. Oltretutto ha portato molto bene anche perché abbiamo fatto un grande europeo, arrivando quindi perdendo la Lituania e giocando nel girone contro Serbia e Spagna, che sono state le squadre che hanno fatto la finale. Quindi devo dire che tutto è andato per il meglio, adesso tutti quanti dobbiamo unirci, combattarci per cercare di continuare su questa strada, perché questa è la strada giusta per lanciare sempre a livelli altissimi questo sport, la palacanestro, per cercare appunto di far appassionare più persone possibili, perché alla fine grazie alla passione si possono anche risolvere piccoli problemi, come possono essere strutture, come possono essere il fatto che il Molise è una regione piccola, però queste cose ci possono dare la forza di unirci appunto per cercare di intraprendere un cammino importante.